Al 5 di Arice Meile, Emanuele Pettinari, il 6 Calite, Salvatore Luongo, seconda fila 8, Speranza FD, Gennaro Amitrano, il 9, Elodi Model, Giuseppe Trinchillo, 10, Elohim Di Venere, Giusy Savarese, 11, Evita Peron, Giorgio D'Alessandro Senior, 12, Eligetta, Alessandro Cocciadoro, 13, Elodi De Veltri, Antonio Di Nardo. Sei in prima fila, altrettante in seconda dopo il ritiro di Electra Thor. Parte piano Erice Meile, allo stacco cerca di emergere Epona e Le Bigi, arginando Egalite. In terza posizione c'era Eclisse Luis che si getta di galoppo e cede la posizione a Estel ZS che ha all'esterno Elodi De Veltri, nella scia della quale sbaglia in curva Egalite. Nella scia di Elodi De Veltri si sposta subito dalla corda Elami Luis. Primi 400 metri in 28 e 6, ma rallenta drasticamente Epona e Le Bigi, avanza decisa Elami Luis. Ha girato Elodi De Veltri e va a chiedere strada alla battistrada. Terza posizione adesso, seconda lungo la corda per Estel ZS, con all'atelo Elodi De Veltri che è seguita da Elijet. Insiste Elami Luis e sta superando facilmente Epona e Le Bigi per transitare al paletto di metà gara in 58 e 9. Ha speso quindi Elami Luis per rilevare il comando da Epona e Le Bigi, che è seguita da Elodi De Veltri. Più indietro Elijet cerca di scavalcare Estel ZS. Prosegue in avanti a buon ritmo Elami Luis, mentre Epona e Le Bigi è affiancata e superata da Elodi De Veltri. Si avvicina Elijet, 1200 metri completati in 1.27.3 da parte di Elami Luis, inseguita da Elodi De Veltri e Elijet. Retta d'arrivo con Elami Luis in chiara evidenza. Elijet che insegue l'Odi De Veltri, più indietro le altre. Elami Luis che prosegue in un'altra dimensione, mentre Elijet scatta sull'Odi De Veltri che peggiora sensibilmente di meccanica. Antonio Di Nardo deve rallentarla, mentre Elami Luis prosegue la sua corsa solitaria verso il traguardo. Elijet conclude netta seconda. Per il terzo i problemi di Elodi De Veltri. favoriscono la rincorsa di Estelle ZS che dovrebbe essere terza. 1.57 secco sul mio cronometro. 2 su 2 per Elami Luis, la figlia di Yankee Slide e oltranza Luis, colori della signora Rosa Arborino. Il trading di Mimmo Minopoli, la guida di Antonio Semioli. Due corsi e due vittorie strepitose per questa Elami Luis, oggi anche con un raguaglio davvero importante nell'ordine dell'1-13-1-13-1 e quindi pronta per naturalmente cimentarsi in ben altre compagnie. Ottima seconda Elijet, mentre sulle difficoltà di Elodi De Veltri, a netto intervallo, la terza piazza per il numero 3 di Estelle ZS. 1-12-3 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle. Grazie a tutti.